grazie a Francesca che sono, ci vediamo tra poco per la torna Federica Mancucci con la tua professoressa che non ti parlerà salute a tutti benvenuti da riparare quindi cosa ti faccio dire nonostante che era giunto in attacco la soluzione che permette a te di entrare e uscire senza rischio di scivolare vedete, ma la comodità è in più continua l'eccezionale promozione anti-crimi con il 3% di sconto di mai e grazie all'incertura statale avrete una deprazione di crisi che non ha fatto il venire